Un nuovo macchinario di precisione che permette di passare dal trattamento di 500 a 800 pazienti oncologici all'anno è stato inaugurato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. A beneficiarne saranno i pazienti in lista d'attesa, come spiega il governatore abruzzese Marco Marsilio. È un acceleratore lineare che consente di fare cure tumorali, oncologiche, molto più rapide e molto più precise, quindi con molto meno danno collaterale per il paziente che viene investito da questa terapia e con una durata delle applicazioni molto inferiore che consente di passare, è stato stimato qui all'Aquila, da 500 a 800 prestazioni all'anno. Significa incrementare del 60% la capacità di cura per i nostri pazienti con evidenti ricadute sull'abbattimento delle liste d'attesa e sulla garanzia anche della tempestività con cui malati di gravi patologie come quelle oncologiche possono accedere al diritto alla salute. All'inaugurazione sono intervenuti il manager della ASL, Ferdinando Romano, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il rettore dell'Università Edoardo Alesse, il direttore della radioterapia oncologica Giovanni Luca Gravina e l'assessore alla sanità Nicoletta Veri che ha illustrato le cifre del finanziamento. Questa inaugurazione si va a innescare in quello che è la nuova riorganizzazione di tutto il nostro sistema sanitario a livello regionale con una delibera di giunta del giugno 2020 abbiamo stanziato più di 6 milioni suddividendo tra le varie arse la possibilità di acquistare questi acceleratori lineari. Grazie